Wella ragazzi, ciao a tutti le nicchia e raga, bentornati qui su Track and Logistics Simulator Come sempre ragazzi inizio il gameplay ricordandovi brevemente che in descrizione se può interessarvi trovate il link che vi permette di comprare tantissimi giochi scontati Poi se non siete ancora iscritti al mio canale e vi stanno piacendo i miei video, beh vi invito ad iscrivervi, ad abilitare le notifiche e anche a lasciare un bel mi piace se mai dovesse piacervi questo video o magari gli altri miei video Allora, dunque, abbiamo 45.000 crediti, forse possiamo comprare qualcosa, tanto alla fine diciamo che l'unico scopo che mi sono dato nel gioco è quello di provare un po' tanti veicoli Perché, meno male, non è diciamo come Eurotrack che puoi assumere personale, quindi alla fine, dato che devo sempre giocare da solo, l'unico stimolo che ho è quello di provare altri mezzi Allora, vediamo un po', beh, questo costa decisamente troppi soldi, non si può comprare, questo ce l'abbiamo già, camion rigido, non ci arrivo Peccato per pochi soldi, questo ce l'avevo già, furgone, questo ce l'ho già, furgoncino ce l'ho già, pick up Automobile, 43.000, e con l'automobile che faccio? Ah beh, però aspetta, con l'automobile qualche lavoretto c'è Questo costa troppi soldi, che faccio, ce la facciamo una bella, questo mi pare l'Audi A3, giusto? Mi pare Acquista il veicolo, acquistare, andiamo, guida, ok Mi so' comprato l'Audi A3 E mo' vediamo un po' Mo' vediamo un po' Che cosa possiamo fare, perché comunque deve portare soldi pure lei Quindi Ma che bellezza, oh Ma che spettacolo, poi gialla come piace a me, il mio colore preferito Ho avuto una Fiat Bravo di questo colore in passato Certo, ovviamente la Fiat Bravo non costa come questa macchina, però Era come, il colore era uguale Ho avuto una Fiat Bravo con questo colore, era spettacolare, a me piaceva Allora Ok, il suono speravo che era più divertente Il sound della macchina non è poi così divertente Per ora almeno Allora, vediamo un po', dai, qualche lavoro è 10.000 euro Toh Amonin, 10.000 euro, che fa? Non è buono? Allora, alla fine, diciamo che forse è il difetto più grande Forse è il difetto più grande di questo gioco E' proprio il fatto che O pigli il camion, o pigli la macchina Sembra un lavoro da 10.000 euro 10.000 credit ti fanno fare Cioè Non ha molto senso Io penso che sarebbe stato giusto Che col camion mi facevano fare lavori molto più Diciamo Dove si guadagnava di più, no? Non ne capisco poi il senso Allora, carichiamo l'altro pallettino Oh Ormai non... Ma? Perché non si infila? Mi sta pigliando per i fondelli sto Oh Mortacci tua, mortadella Come cavolo dovevo chiamare? Ma non si infila? Ah, vabbè Alleluia, eh Alla buon'ora Andiamo Si può partire Allora, l'uscita Boh Ok, qua c'è l'uscita Bene Voglio vedere se sta macchina c'ha Ma fa un culo Mi sono beccato già il rosso Voglio vedere questa macchina c'ha un bel Ma non si vedono i semafori Ma io dico Nella vita vera Quando stai in macchina Si vedono i semafori Com'è che qua nei giochi non si vedono mai? Com'è che nei giochi i semafori non si vedono? Tu stai qui e non vedi Non vedi se è rosso, è verde? Io non lo so Che cavolo stai aspettando? Ma accendo la freccia, stronzo Ma ancora accendo la freccia Ancora si vede il semaforo Mi fermo qua, se no non lo vedo più Cioè mi tocca fermarmi Vabbè forse perché nella vita vera Ti spingi con la testa in avanti E vedi no Ma com'è che tutti i viaggi che faccio Mi fanno fare sempre le stesse strade E stessi percorsi Mi sa che già so dove stiamo andando Faccio un limite di 130 E che fanno lo sfrutto Forse è l'unico bel vantaggio che ho con la macchina Che è così potente Che posso andare veloce tutto il tempo E quindi un viaggio lungo diventa breve Allora più avanti ci dovrebbe essere un autovelox Eccolo là Qual è il limite qui Non ne ho la più No dove è l'autovelox Ah eccolo qua Non so qual è il limite Io vado a 70 La tenuta di strada è spettacolare in questo gioco Cioè non è realistica Ha una tenuta di strada che insomma Non ti ribalti Bene o male Cioè In teoria già mi dovevo ribaltare probabilmente No non esiste Non esiste Non ti ribalti Quindi puoi andare come Come mi Ma che so vai come la clerk vai qua Tranquillissimo Ma da 150 vado Senza carrello andava a 300 Andava a 300 Oddio 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 170 E tira eh Annaggia camion Ci devo andare pure io di qua Guarda che si ribalta quello Vi ricordate lo scorso gameplay? Ehi c'era un camion che andava straveloce Ma guarda dove hanno messo l'autovelox Non si sorpassa a destra Ma questo è un gioco Oh qui è il posto perfetto Per vedere se facciamo più Di 170 Si solo che a fine ponte c'è l'autovelox No me l'hanno fatta Vabbè dai Andava a 100 In una zona con un limite di 80 Sembra la facevano a 170 Il ritiro di patente Oh oh Che cavolo fai? Ma è questo pazzo Guarda come va 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 Ma come pigliano le curve oh E beh Ma che stiamo aspettando? Oh abbiamo noi la precedenza C'era pure il cartello che abbiamo la precedenza E fanno passare agli altri Attenzione autovelox Ma ho finito il carburante Ma che m'ha venduto una macchina senza carburante? Guarda meno male Me ne so accorto in tempo Eravamo rimasti senza succo Senza succo di frutta eravamo rimasti Ma poi mi toccava spingerla Se mi metto più avanti Non vedo più il semaforo Eravamo rimasti Eravamo rimasti No vedo più il corso Eravamo rimasti Siamo arrivati Guarda quello qua a 500 Come si muove Dov'è il parcheggio? Una parola Ce la fanno dai A posto Bene, tutto bene No problem 10.000 crediti puliti puliti Ok Diciamo che il vantaggio della macchina è che è bella veloce Quindi un viaggio da 10.000 crediti te lo fai in fretta Perché questa Mazzò Sarebbe quasi figo farsi Un viaggio da vuoto Che poi effettivamente qua paga poco Quasi quasi Ci facciamo un giretto Giusto per vedere Sta macchina come corre Che insomma Senza carico Ci puoi gareggiare Ma Ma fa un culo sto cavolo di macchina fotografica Sto cavolo di autovelox Infilato nell'angolo Eh qua ci vuole l'autostrada Per provare la velocità massima Vorrei provare la velocità massima Ma Quanto cavolo è l'autostrada Sì ma non si vede Non si vede Ah l'autostrada Se io vado a vedere qua Ma la fanno la multa? No Volevo provare in autostrada La velocità massima Abbiamo visto 170 con il carico Ma senza carico Aspetta No la frizione Non me funziona Uh aspetta aspetta Forse sì No perché Eh ho visto le ruote sgommare Come cavolo ho fatto Boh Avevo visto le ruote sgommare Ma come ho fatto non lo so La frizione purtroppo non va Se no era facile far slittare le ruote Avanti va Che stiamo aspettando Amonino Andiamo C'è l'autovelox Sembra autovelox Questo posto è pieno di autovelox Non ho mai visto così tanti autovelox in vita mia Aspetta un po' Oh che cacchio vuoi? Mi stai sfrigando la macchina Ma no 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 Volevo vedere cosa c'era qui dentro Ma che è sta posto? Cos'è sto posto? Che cos'è qua? Che cos'è? Ma che porta è in acqua? Vai in acqua La spiaggia dall'altro lato Oh Diciamo che oltre Non mi conviene Là sotto c'è qualcosa Andiamo a vedere cosa c'è dall'altro lato Forse è una specie di collezionabile Carino è il posto eh Il posto è carino Quasi quasi mi ci faccio uno screen Allora lì proprio là sotto Ma come ci si va? E' impossibile In che modo ci si va? Cioè là sotto c'è qualcosa da raccogliere Ma come si va lì non lo so Ah ecco aspetta Ok cose da pazzi Cose da pazzi Oddio E poi come ne esco? Infatti non ne esco Aiuto E volevo andare lì perché c'è qualcosa Mo' però ma la piglio in the queue Non mi dovevo fermare Speriamo che c'è un tasto per Recupera veicolo Oh Ah ok forse allora Ok 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 Vai stavolta di prepotenza Ma non sai Valà che siamo in spiaggia Ci pigliamo il sole Allora voglio proprio vedere cos'è sta cosa qua Questo questo Che cos'è un collezionabile? Hai raccolto un palletto dorato Mille crediti Ah Vedi Sono collezionabili Cioè ma che spettacolo Valà Qua se non mi faccio lo screen Ovviamente mo' col cavolo che si esce di qua Vabbè Mi basta fare il recupera veicolo Boom Fatto Va bene Ok quindi ci stanno questi collezionabili in giro Che si possono raccogliere E mo' voglio provare la macchina se va Voglio vedere più o meno la velocità massima che possiamo fare con quest'Audi E ci stanno macchine migliori poi da comprare con più soldi Ehm Ehm Madonna Mi ritrovo contromano Mi ritrovai contromano Mi trovavo E in più c'era l'autovelox però Boh non mi hanno fatto niente per fortuna Si se magari giravo un po' di più Ho spaccato un palo Ok qui c'è un altro autovelox Scassaballe Scassaballe Avanti Ora è il momento buono per provare l'alta velocità Il contachilometri arriva a 300 Ma io non penso proprio che la macchina arriva a 300 100 Beh c'ha la sesta Cavacca Oddio E vabbè E qui c'è l'autovelox Neh siamo riusciti ad arrivare a 190 Beh insomma Cioè la velocità massima si può provare solo se c'è un'autostrada bella Dritta 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 Che deve durare un po' di tempo Ma i danni non ci stanno in sto gioco Cioè ho dato due tre botte qua e là Ne è successo quasi niente Vabbè va Lasciamo perdere la velocità massima Perché tanto con tutte queste curvette È impossibile Diciamo che la macchina penso che 200 le fa Dovrebbe Ce la può fare però Diciamo che è una macchina Non è una macchina da gare Quindi non è che c'ha un motore Quello passa col rosso Vabbè Allora se passa lui col rosso Perché non devo passare io col rosso E insomma non è una macchina da gare Ma non di sicuro Vediamo un po' se ho fatto dei danni Non lo so Vediamo Veicolo riparazione Beh Riparato Non ne ho la più palida idea Non lo so Penso che avrò fatto delle riparazioni E c'è lavoro per me C'è un elmetto Vabbè io posso lavorare con questa macchina Pare di sì Questo È uno che paga bene Andiamo Ma perché mi spegne il motore Si parte Let's go baby Ma come Oh ma è diventato Era verde E poi è diventato rosso Non c'ha manco il giallo I semafori qui non hanno neanche il giallo Direttamente da verde al rosso è diventato Ah no qui è diventato giallo Boh Ma la multa la fanno o no se passo con rosso Non la fanno Eh no Non mi pare che fanno multe se passi con rosso Gli autovelox invece sono terrificanti Ci stanno una marea di autovelox Pare che I creatori del gioco hanno detto Ma Fiamo io odiare gli autovelox ai nostri utenti Oh si è spostato Si è spostato raga Ma che funziona il clacson Si spostano Si è spostato Mi sa che ci devo riprovare Ma no sarà stato un caso Di sicuro non ci stanno le auto dalla polizia in giro L'unico modo per prendere multe sono gli autovelox I semafori pare che multe non ne danno Pare almeno Eh certo che con questa macchina farò un lavoretto che ci vuole A parte evitare un po' le multe Tipo qua c'è un altro autovelox Eccolo A parte fare in modo di evitare un po' di multe Questa macchina si va veramente veloci Si può correre Ah qua il limite è di 100 Dice che è di 130 Scommettiamo Vediamo Effettivamente Non me l'hanno fatta la multa Effettivamente multa non ne ho presa Stavano andando a 122 Venga siamo decalata Andiamo più veloci Oh ma quello lì come si piglia Eh ma per pigliare quel collezionabile Io c'ho il rimorchio È impossibile C'è un collezionabile sul ponte Però lì come ci vai con il rimorchio Non ci si va Lì ci si deve andare senza rimorchio E con un piccolo veicolo Eh vedi questa 500 viola qua Ah mi devo fare la mega salita Bella bella la salita Mi piace Tacci tua Ancora la prima curva era Beh non lo so ma ci stanno i danni sto gioco Oh oh si ho fatto danno Ho fatto danno 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 c'è Non so il rimorchio Ma danno al veicolo c'è Cioè non passa mai una macchina Me ne passa una Proprio nel momento in cui Purtroppo la macchina Mi va di sottosterzo È un po' come non avere il rimorchio Comunque E non c'è È come non avere il rimorchio Perché nella realtà Già dovevo Andare in testa coda Non so quanto volte E invece ti diverti È come È come fare il rally È un po' come fare quasi il rally Sono andato Sempre sottosterzo penso Siamo arrivati Eh forse ho danneggiato il carico Ma forse anche no Io penso che ho scassato solo la macchina Com'è qua No danni carico danni zero Eh ho scassato solo la macchina Però vabbè Non so Non so manco Ma è un po' lontano andare qua Eh vi devo rifare tutta sta strada a scendere La famo un'altra volta raga Per ora concludiamo Spero vi sia piaciuto il gameplay Bella la macchina Devo dire Molto divertente E che altro ragazzi Beh Quello che ho già detto all'inizio Vi ricordo in descrizione Il link per comprare tanti giochi scontati Se non siete iscritti Vi invito ad iscrivervi E a lasciare un bel mi piace Ci becchiamo ragazzi Ciao alla prossima Ciao alla prossima